La manutenzione è una questione ordinaria, cioè fatta tutti gli anni va fatta. Alla fine di ogni stagione cattiva bisogna controllare lo stato dei piloni e dell'impalcato. Come si fa con gli asfalti? Esattamente come si fa con gli asfalti? Bisogna farlo su tutta la struttura e intervenire dove si ritiene necessario intervenire. Il sale che si adopera, non il sale da cucina, per sciogliere la neve, non il sale da cucina. Si chiama sale antigelo ed è un prodotto chimico che scioglie rapidamente l'acqua. Il sale, misto all'acqua, quindi sciolto nell'acqua, è altamente corrosivo. E siccome il calcestruzzo di per sé produce delle microfissurazioni, l'acqua si infila nelle microfissurazioni e ossida l'acciaio. L'ossidazione dell'acciaio, di armatura, provoca un'espansione, un aumento di volume che rompe il calcestruzzo. Quindi si innesca un fenomeno a catena. Il calcestruzzo rotto fa passare nuova acqua, la nuova acqua raggiunge l'altro ferro, il quale si espande e rompe ancora del calcestruzzo. È un fenomeno progressivo. Ecco perché noi abbiamo domandato dove siamo arrivati adesso in questo fenomeno e quanto tempo possiamo aspettare ancora prima di arrivare a un punto critico di non ritorno. Ci sono dei periodi in cui il viadotto è più sollecitato, diciamo così, di altri. Allora, pensate di sollevare un secchiello da un chilo. Lo sollevate una volta, due, tre, quattro, finché il braccio vi si stanca e non siete più capaci di sollevarlo. Il pilone ha lo stesso lavoro, sta lì mantenendo, ma se tu gli dai una botta frequente, arriva un momento in cui il pilone non resiste più per fatica, per fatica, perché sono materiali che si affaticano. Se questa fatica avviene con uno stato di deterioramento, anche di solo invecchiamento dei piloni, e non si è intervenuto provvedendo a rinforzarlo, il pilone può andare in crisi. Può andare in crisi. Ora, la crisi non vuol dire che crolla, ti crolla sotto i piedi. Può semplicemente vuol dire che intanto non ci puoi passare con gli stessi mezzi. Il ministero, questo stava suggerendo a tutti, nel frattempo che state facendo questi lavori, quindi state, come dicono i romani, eliminando il fracico dai piloni, e vi rendete conto che state andando in profondità, regolate il traffico sopra, non fate passare i mezzi eccezionali, regolate il traffico dei mezzi pesanti. Questo stava dicendo il ministero. Non chiudete l'autostrada.